Si terrà a Napoli presso la città della scienza il 14esimo forum piccola industria confindustria un appuntamento biennale sui temi di maggior interesse per le PMI Alla base delle due e mezza giornate l'innovazione come leva di sviluppo e crescita per la competitività delle PMI, dei sistemi di business e del paese Ci racconta meglio cosa accadrà al forum Alberto Bavan che abbiamo al telefono, buongiorno Buongiorno a tutti Prego, vuole raccontarci meglio appunto che cosa accadrà in queste giornate? Sì, noi l'abbiamo chiamato un non convegno proprio perché deve essere un incontro che ha il sapore di riuscire a contaminare più persone possibile su un argomento che c'è molto caro che è la crescita Come si può invertire la rotta? Noi cerchiamo di capire qual è il potenziale del nostro paese, che sono le nostre imprese E queste imprese cercare di coinvolgerle su degli argomenti che possono dare una diversa prospettiva in ancora un momento molto difficile Quindi siamo consci ancora della situazione di crisi dal punto di vista proprio di disponibilità di mercato Quindi della mancanza di trovare una possibilità di crescita nel mercato interno Ma come avete visto di solo export non si può vivere e anche l'export a livello europeo sta cominciando anche ad avere dei problemi Quindi stiamo cercando di capire quali siano le aziende che possono portare le aziende a diventare più internazionali E quindi più apprezzate all'estero che è l'unico mercato che in questo momento sta comprando E l'innovazione sappiamo essere uno dei driver più importanti Quindi creiamo un appuntamento che è come dicevo un laboratorio di contaminazione, lo vogliamo chiamare così Dove ci sono molte imprese che parleranno, molti imprenditori Non ci sono politici perché noi vogliamo dare proprio delle ricette Quindi raccontiamo come alcuni di noi sono riusciti anche in un momento così complicato ad aumentare la competitività In un paese che non sta creando le condizioni di contesto favorevoli alla crescita E quindi in un momento ancora così complicato È un tentativo che ci serve per confrontarci e ci serve per riuscire a dare non solo risposte ma essere più coinvolgenti Perché ricordiamo che in questo momento il problema più grande che abbiamo è che le persone, gli investitori, gli imprenditori Ma anche tutto il popolo italiano sta perdendo fiducia Noi vogliamo che questa cosa non accada perché in questo momento abbiamo la necessità che tutti remino dalla stessa parte Grazie dottor Baban, noi di Reteconomy seguiremo ovviamente il forum e dedicheremo a questo evento una puntata di Buongiorno Economia, Imprese e Lavoro Benissimo, siete i benvenuti e poi vedrete qualcosa di particolare Quindi l'invito lo stendiamo agli imprenditori perché ci saranno diverse sorprese Grazie Grazie Reteconomy La nuova visione dell'economia Grazie 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 Grazie